4 cose di cui un'azienda non può fare a meno Vuoi sapere che cosa può davvero rivoluzionare il tuo business e aumentare i guadagni? Ti spiego 4 cose di cui non dovresti fare a meno se vuoi fare sul serio con la tua attività Numero 1, immagine coordinata Quindi avere un'immagine identica con logo, colori, font e comunicazione su tutti i canali online e offline In questo modo sarà più semplice distinguerti dalla concorrenza e in più fidelizzerai i clienti A caso di tanti fake la gente tende a non fidarsi dei profili online Per questo hai bisogno di un sito web professionale con delle recensioni Profili social Le aziende dovrebbero avere un profilo online perché è lì che stanno i clienti In più è più semplice veicolare i messaggi attraverso i social che non attraverso il sito I social sanno perfettamente che cosa ci piace Per questo se attivi campagne social potrai veicolare il messaggio direttamente da cui rendi davvero interessati Che ne pensi? Sei d'accordo?